Benvenuti a questo nuovo video del Conevic Channel Italia, oggi seconda puntata sul sistema multimediale di tipo 2. Però prima di continuare nella scoperta di questo nuovo sistema multimediale voglio dare una risposta a Ezio Auditore che in un post del video precedente mi ha segnalato una cosa. Ovviamente io ho risposto al post, però magari non tutti leggono i commenti che ci sono sotto il video per cui vediamo di dare questa spiegazione in maniera più dettagliata. Ezio Auditore mi ha segnalato che nella schermata in cui si vedono le colonnine, come già nel multimediale tipo 1, le colonnine che si vedono non sono quelle vicino a casa ma sono quelle lontane. A me per esempio viene sempre fuori una colonnina e prima o poi ci andrò a vedere in un parking Kurala in Svizzera. In questa schermata c'era un tastino live che permetteva di aggiornare al volo la posizione delle colonnine e quindi poi ti venivano fuori effettivamente le colonnine che erano vicine alla tua posizione. Ora questo tastino live non c'è più e mi chiedeva come poter ovviare al problema. Diciamo che al momento io ho trovato una soluzione. Non so se è la più semplice, non so se è l'unica però intanto cominciamo a dare una risposta in questi termini. Quindi come fare ad avere aggiornato l'elenco delle colonnine più vicine alla propria posizione. Se noi scorriamo entriamo dentro EV e poi clicchiamo sulla cartina e ci facciamo dare la lista delle stazioni, vedete che qui mi sta dando delle stazioni che sono molto più lontane da quelle che ci sono. Anche se io glielo faccio aggiornare rimangono sempre le stazioni lontane. Una volta c'era il tastino live che non c'è più che aggiornava e effettivamente lo aggiornava. Per andare nelle stazioni live in pratica per ottenere lo stesso lavoro adesso il percorso un po' più lungo. Quindi dobbiamo, questa è la schermata iniziale, dobbiamo scorrere fino in fondo. Abbiamo Hyundai Live, stazioni di carica live e a questo punto effettivamente vengono fuori le stazioni vicine alla posizione dove ci troviamo. E questo è per rispondere alla domanda di Ezio Auditore. Poi ho visto che per esempio ci sono altre voci che non mi ricordavo che sono per esempio lungo il percorso, quindi se sto usando il navigatore, le colonine lungo il percorso, le colonine vicino al luogo di destinazione eccetera. Bene, non è detto che questa è proprio una risposta immediata, ho letto il post, sono andato a cercare, ho trovato questa soluzione, come ho detto prima può essere che ce ne siano altre. Andiamo avanti con l'analisi del sistema multimediale tipo 2. Suono, qui abbiamo la possibilità di impostare le diverse impostazioni audio. Partiamo, abbiamo audio premium, posizione, qualizzatore, indicazione di guida, controllo fruscio, avviso, assistenza conducente, dispositivo connesso. Cominciamo con l'audio. Qui abbiamo tre possibilità diverse per ascoltare l'audio naturale, concerto, audio reale e quindi qui dovete ascoltare i brani che siete soliti ad ascoltare e vedere che cosa vi piace di più. Controllo volume in base alla velocità, in pratica più noi aumentiamo la velocità, più dovrebbe aumentare il volume per compensare il maggior rumore, i maggiori flusci eccetera. Io l'ho messo off perché preferisco regolare il volume come voglio io. Limitazione volume ad avvio sistema, questa è una cosa utile perché se si è sentito il volume a un livello molto alto, poi si spegne l'auto e si scende, quando si risale in auto, magari al mattino presto che non si è ancora tanto ben svegli, se l'audio parte a balla, a parte gli eventuali danni agli altoparlanti, ci si può anche spaventare per cui va bene che ad avvio del sistema il volume sia limitato e poi si potrà regolare come meglio si vuole. Posizione qui è per spostare l'origine del suono, quindi è un bilanciamento destra e sinistra davanti e dietro, quindi noi possiamo spostare l'origine del suono più a destra come vedete, più a sinistra, più avanti, più indietro e se premiamo qui al centro ritorna nuovamente standard di default, anche questa è una cosa che uno deve provare. Equalizzatore, abbiamo la possibilità di modificare gli alti, i medi e i bassi, cliccando su accentra viene tutto quanto azzerato e poi di conseguenza ognuno può scegliere in base ai suoi gusti personali. Indicazioni di guida, volume guida e qua possiamo definire i volumi dei messaggi del navigatore, la guida vocale verrà riprodotta con questo volume, la guida vocale verrà riprodotta con questo volume. Idem per gli effetti audio, per la ricezione dei messaggi, la guida vocale verrà riprodotta con questo volume. E qui si parla di riconoscimento vocale che è una cosa che vedremo in seguito, probabilmente la risposta del... La guida vocale verrà riprodotta con questo volume. La risposta del sistema... La guida vocale verrà riprodotta con questo volume. Sì, grazie. La risposta del sistema quando si parla di riconoscimento vocale, qui possiamo in pratica definire che livello avrà. Durante lo spostamento nelle varie voci si sente sempre il bip a ogni pressione. Se volete eliminarlo c'è questo tastino qui. Io lo lascio attivo perché così almeno ho un riscontro sonoro al fatto di aver premuto un punto qualunque dello schermo. Navigazione durante le chiamate, quindi questo quando noi stiamo rispondendo al telefono, stiamo effettuando una telefonata e stiamo utilizzando il sistema multimediale, ovviamente il sistema multimediale si occupa di riprodurre l'audio della telefonata. Lasciando spuntata questa casella, dovesse esserci un messaggio del navigatore durante una chiamata telefonica, viene abbassato il volume della chiamata telefonica e noi sentiremo il messaggio che ci deve dire il navigatore. Questo è analogo, non è riferito solo alle telefonate ma è riferito all'ascolto normale della radio, dei brani su che avete USB, insomma su qualunque altra funzione audio, quando il sistema multimediale e il navigatore in particolare ci deve inviare un messaggio, abbassa tutto il resto. Disattiva la navigazione vocale, ok, se noi attiviamo questa spunta, premendo il pulsante di disattivazione audio che si trova sul volante ed è in pratica l'ultimo pulsante centrale a sinistra, quindi premendo verso l'alto si aumenta il volume, premendo verso il basso si diminuisce il volume, se lo premiamo al centro dovrebbe disattivare l'audio della guida per 10 secondi, se può servire. Controllo fruscio radio FM, si parla ovviamente di radio FM perché le radio, se stiamo ascoltando una radio DAB, le radio DAB non hanno fruscio in quanto essendo digitali o si sentono e si sentono bene o non si sentono. Mentre invece se stiamo ascoltando una radio in FM, se il segnale diminuisce potrebbe esserci un aumento del fruscio e qui abbiamo la possibilità di, abbiamo tre opzioni per la riduzione del fruscio, anzi la prima non c'è nessuna riduzione del fruscio oppure una leggera cancellazione del fruscio o una forte riduzione del fruscio. Anche queste sono cose da provare sul campo. Retromarcia prioritaria, a cosa serve questo? Serve per quando inseriamo la retromarcia, se questa casella è spuntata, qualunque cosa stia suonando, qualunque cosa stia succedendo nell'impianto audio, il volume viene diminuito in modo da permettere una maggiore attenzione alla manovra che si sta facendo. Dispositivo connesso Android Auto, Apple CarPlay, ne parleremo specificamente quando tratteremo il collegamento del telefono, nel mio caso Android, perché non ho un telefono Apple, alla macchina. E con questo abbiamo terminato la sezione suono. Connessione dispositivo Qui abbiamo Android Auto, Apple CarPlay, che ne parleremo in un video apposito e cominciamo a vedere invece le connessioni Bluetooth. Vedete che qui ho il mio telefono che è connesso in questo momento e qui si può aggiungere un nuovo telefono oppure eliminare un telefono che è già presente o un altro dispositivo multimediale Bluetooth. Priorità connessione automatica. Se io avessi più di un dispositivo Bluetooth collegato qui avrei un elenco e potrei spostare il dispositivo che mi interessa per portarlo in testa in maniera che sia il primo a essere connesso automaticamente. Notifica messaggio. Nel caso dei telefoni, se noi abbiamo questa casella spuntata, ci arriveranno, verranno notificati i messaggi quando ci arriva un SMS sul telefono. Messaggi predefiniti. Qui abbiamo i messaggi predefiniti per gli SMS o per la risposta una chiamata rifiutata, cioè che cosa rispondere quando si rifiuta una chiamata. La cosa interessante di questa sezione, che non mi sembra che prima ci fosse, è che vedete qui c'è un elenco di messaggi che la Hyundai mette come predefiniti, ma se noi entriamo all'interno di un messaggio abbiamo la possibilità di modificarlo. E quindi possiamo anche modificare il messaggio e poi inviare quel messaggio. Forse è più comodo sul telefono, però magari se si sta guidando è meglio così. Anzi, se si sta guidando è meglio fermarsi che almeno si evitano problemi. Modalità privacy. La modalità privacy protegge i dati personali, contatti, liste chiamate, preferiti non sono visualizzati. Quindi se io adesso volessi provare a effettuare una telefonata e quindi con il tastino sul... Vedete, mi viene fuori un elenco di destinatari. Proviamo a abilitare la modalità privacy e vedete che l'elenco dei contatti non c'è più. Quindi va bene, nessuno vedrà l'elenco dei contatti preferiti e tutto quanto del telefono, però di fatto mi impedisce di usare il sistema multimediale per trovare i contatti. Quindi dovrei aprire il telefono, cercare il contatto sul telefono, chiamare dal telefono e poi il resto della comunicazione avverrebbe tramite il sistema multimediale, ma mi sembra insomma una cosa. D'altronde se siete in macchina con il telefono ci siete voi con il telefono e quindi non è che uno... non lo so, sono queste cose sulla privacy che lasciamo perdere. Info sistema bluetooth, nome del veicolo Kona e questa è la passkey che serve per fare il pairing per accoppiare un dispositivo bluetooth alla nostra macchina. Anche qui il nome del veicolo può essere modificato come si vuole, aiuto ok, e anche la passkey può essere modificata e quindi potete mettere una vostra password personale. Bene, abbiamo terminato anche la parte relativa alle impostazioni della connessione. Per quanto riguarda il collegamento del telefono al bluetooth della macchina, operazione che si chiama pairing, in questo video trattiamo soltanto delle impostazioni del pairing. Il pairing tra due telefoni o tra un telefono e un'altra apparecchiatura è un'operazione abbastanza semplice. Se avete dei problemi andando in concessionaria sicuramente trovate chi ve lo risolve. In ogni caso magari più avanti farò anche un video o all'interno di un altro video una parte dedicata a come si fa il pairing tra un telefono e il sistema multimediale della Kona. Andiamo avanti. E siamo arrivati al profilo che è una funzione completamente nuova di questo sistema multimediale tipo 2. Qui vediamo già il mio primo utente, cioè il mio utente, e ho la possibilità di modificare il nome dell'utente dell'utente. Ho la possibilità di impostare una password, poi ne parliamo alla fine di questo pezzettino della password. Immagine del profilo e l'immagine del profilo posso scegliere tra delle immagini predefinite, non ne posso aggiungere delle altre. Collegare l'account Bluelink all'utente, nel mio caso è già collegato, non lo scollego perché sennò mi tocca rifare tutto da capo, e collega i dispositivi mobili. Qui se io avessi più di un dispositivo mobile nel mio profilo potrei scegliere quale collegare. E questi sono in pratica tutti quanti i dati che noi abbiamo relativamente a un utente, a un profilo di un utente della Kona. E ricordatevi perché poi ne parliamo dopo. Posso cambiare l'utente e quindi posso andare per esempio a Conducente 2. Confermiamo. Dai che ce la puoi fare. Sono arrivato a Conducente 2 e anche qua relativamente al Conducente 2 ho la possibilità di fare le varie variazioni. La password dovrebbe servire per il collegamento all'account Bluelink ma non solo e quindi anche qui possiamo scegliere l'immagine del profilo, collegare un account Bluelink, collegare dispositivi mobili, eccetera, eccetera, eccetera. Cambiamo l'utente e ritorniamo sul mio utente. E per quanto riguarda il profilo, in pratica abbiamo già finito. Come avete visto, una volta che io cambi utente e con quell'utente faccio il collegamento al Bluelink, posso poi impostare una password in maniera che nessuno possa collegarsi all'interno della macchina con quell'utente particolare. Io ho provato a mettere la password per vedere come funzionava e effettivamente quando tentavo di entrare in Pierangelo dovevo inserire la password che è una password composta da quattro numeri che è durata a tempo zero, perché poi, soprattutto in questo momento che sto realizzando questi video, per cui realizzo un pezzettino, poi ritorno in macchina e ne realizzo un altro, quindi accendi la macchina, spegni la macchina, tutte le volte che accendevo la macchina dovevo inserire la password per entrare nel mio profilo, dico è durato tempo zero perché la terza volta ho detto va bene, togliamo la password, ma poi la password per proteggere che cosa? Per proteggere l'immagine di profilo, per proteggere la mail con cui ho fatto il collegamento al Bluelink, che peraltro è mascherata quindi non si vede comunque, per proteggere che cosa? E poi chi deve salire sulla mia macchina? Comunque, qua ovviamente è una questione come al solito di privacy per cui se c'è un profilo ci deve essere la possibilità di proteggerlo da password e secondo me con questa storia della privacy, scusatemi lo sfogo che non c'entra niente con il canale, ma ci stanno prendendo un po' in giro, anche perché qualunque cosa voi vogliate fare sul telefono o sul computer, un sito per acquisti tipo Amazon eccetera, o fornite i vostri dati o se no non lo fate, per cui se uno volesse veramente risolvere i suoi problemi di privacy per quanto riguarda gli aspetti tecnici multimediali, dovrebbe tornare al telefono a filo e al walk, come si chiamava, quell'apparecchetto per ascoltare le musica a sette con le cuffie. E poi in definitiva è giusto che ci sia una legge sulla privacy, senz'altro, che protegga i nostri dati, sono perfettamente d'accordo con voi, ma rischia di creare dei problemi all'utente normale, mentre invece chi ha i mezzi e che può, trova tutti i dati che vuole. Vi faccio un esempio banale, ho ordinato delle ventole, spedite dalla ditta ma rientrava sempre nel giro Amazon, per cui vedo il tracciamento del pacco e vedo che sta andando a Udine, io sono in Valle d'Aosta, telefono alle poste, gli do il codice della spedizione e chiedo all'impiegato, può dire se è indirizzato a me, io mi chiamo tal dei tali, no, per la legge sulla privacy non posso dirglielo. Ma io non ti ho chiesto chi è il destinatario, ti ho chiesto se sono io, ti ho dato anche il codice, tra l'altro come mai io poi ho avuto il codice di una spedizione di un altro, questo è un altro discorso, non ti ho neanche chiesto se a cinque anni ha fatto la rosolia, ti ho solo chiesto se sono io. Perché tirare in ballo la legge sulla privacy per un'informazione di questo genere? Quindi secondo me su questa legge della privacy, magari non sulla legge ma sull'applicazione in alcuni casi, si sta facendo una grande confusione. Comunque, andiamo avanti. Riconoscimento vocale. Qui vi dico già subito che stiamo entrando in un campo che conosco pochissimo, l'unica cosa che so è che la macchina può rispondere a dei comandi vocali, l'ho provato per fargli fare una, chiamare una persona al telefono. So che si possono registrare dei memo vocali ma non so dove e quindi sarà sicuramente argomento che dovrà essere sviscerato più avanti. Comunque, per il momento, vediamo le impostazioni che si possono fare relativamente a questo riconoscimento vocale. Attivare e disattivare il riconoscimento vocale online e il trattamento dei dati personali, come indicato di seguito, ci risiamo di nuovo, qui eccetera, vi spiega tutte le cose che vengono, tutti i dati personali come vengono trattati. Riconoscimento vocale. E qua, principiante fornisce istruzioni dettagliate sul riconoscimento vocale, dove? Non lo so. Normale, vengono fornite indicazioni di riconoscimento vocale semplici ed esperto. nessuna guida per il riconoscimento vocale, si sente solo un effetto sonoro. Quindi, come vi ho detto prima, questo è un argomento a me praticamente sconosciuto che affronterò più avanti. Di sicuro, adesso, come impostazione del riconoscimento vocale, metto principiante perché in questo campo sono veramente principiante. Abbiamo terminato anche il riconoscimento vocale. Abbiamo abbondantemente superato i 20 minuti, quindi direi che per il video di oggi, per questo video, possiamo fermarci qui. Una notazione, tra l'altro, a proposito di riconoscimento vocale, di comandi vocali, eccetera, ho scoperto che quando si attiva la navigazione, l'indirizzo lo possiamo anche dettare e quindi c'è l'iconcina di un microfono, si schiaccia il microfono, si dice l'indirizzo e, se la macchina lo riconosce, prende direttamente l'indirizzo della navigazione senza bisogno di doverlo scrivere. L'ho provato, il nome era italianissimo e quindi non ha avuto problemi. Un giorno proverò anche, che so io, corso Saint-Martin de Corleon, per vedere che cosa capisce la macchina. Bene, per questo video abbiamo terminato. L'appuntamento è al prossimo video. L'appuntamento è al prossimo video.